Ragazzi qui Ditto, oggi giochiamo un altro indie insieme a Reak Ciao a tutti Il gioco indie è Ballman Planets Io sembro un rapper di quarto ordine Devo abbassare Perchè È bella però È bella che basta gli high score Di chi? Chi le ha fatto? Di chi? Oh guarda la plaga di pacman È incredibile scusa Che cazzo Uuuuh hai già rischiato Guarda la velocità Si può giocare con il controller Ecco il cazzo Allora ragazzi i tasti Se tenete premuto il tasto sinistro corre Girate il mouse e curva Poi sono fermi nei video No eccole Guarda come ne hai fatti in casa È difficile di capire che devo girare il mouse in un certo modo Vieni qua Uuuuh Jumpscare Ho capito ma io mi agito in sta cosa Lei fa un paura evidentemente È vero Potrebbero Cioè è un creepy game Non so se sono fantasmi Vedete la camera quando va a puttana È fantastica Vieni qua Vieni qua Ma fai a dire che non devi mangiare? Ah perchè scappano Oh Eh si si come scappano Hai capito tutto di questo Guarda dritto Ma stai Questa musica Questa musica One two three Vabbè perchè cazzo cosa sto facendo Perchè la telecamera è andata così Ah ok abbiamo blocco Nivello difficile Anche se non ho Will come scritto sbagliato Vabbè hanno lasciato uno spazio Will come Will come Will come Perchè è Will come Un po' in tedesco Questa musica Hai poco tempo Ah è un Segnalatore Dio quello lì è tipo C'ha gli occhiali Eh si Eh perchè aveva troppo swag Ah ok Quanti pianeti Ecco perchè si chiama Planets Ricorda un po' Sai quella Ricorda un po' Super Mario Galaxy Si Lui che ci abbiamo giocato così tanto Proprio anche come qualitamente Qualitamente dici Esatto No Eh subito Cambio i pianeti Almeno uno vorrei finirlo Lì beh Porca presto Lasciano a metà tutti Ah e stavo di mangiarli Quella lì mi stava buco Eh perchè non hai sentito la musichetta Come facevo? E' uguale Ok E' sempre uguale Guarda l'ambiente Hai visto che anche i fantasmini C'è il mistero originario caduto E' infatti Hai visto che anche i fantasmini sono E' paustro eh E' ancora paustiti Per trovare te Tanto non possiamo stare solo il mouse Che gioca a lui eh Si Sì E' terribile Eh vabbè Per quello che mi spaventa a volte Mi fa correre Come fa? Corre No come si fa? Cazzo Sono più veloce Sono più veloce Eh ma perchè No Ah Sono mega Oh Io metti lì è impossibile vincere Sono molto più veloce No Ancora 3 secondi per mangiarmelo No è vero Ah si si Che cazzo fa? Oh non ho il mousepad Ok Non ho il mousepad Beh è utilissimo il mousepad E' il tappetino del mouse Si Non ce l'ho io Appunto Non lo uso Non sono i libri di scuola Neanche siamo sul banco Si da lavoro Ah Ha fatto ding Ha preso una vita Incredibile Davvero? Si Ora un po' se riesco A raccogliere Tutto Non ce la farò male No però guarda che Ah vabbè ma no Le palline piccole Sono troppo Troppo power Sono Jumpscare eh Perché sono troppo Ah possono anche correre Quando prendo La scintelleria La scintelleria La dolceria Vedi un po' una cosa Dimmi Ti mancano quattro cosi grossi spinosi Se vuoi Guarda come lo stanno Proteggendo Esatto Guarda qua ci sono Guarda c'è anche qua con gli occhiali Guarda qua che cazzo Guarda io scappo scappo Guarda io scappo scappo Guardi attento Pili Bob Tom Oh il pianeta delle spine Sto fai tirini Che ha planet misti questo Ok Comunque questo gioco è figo Incredibile Non ci ho provato È una corsa Ah non ho scommesso Ci abbiamo ancora un'ora Prendiamo che arrivano le bits Incredibile Pazzesco Pazzesco sicuramente Pazzesco L'ho saltata una Ma l'ho fatta di proposito Immagino Mi stai seguendo Ah in tra le mosse delle Wow c'è un ombre Non è possibile È vero che È molto più difficile Del pack non originale Cazzo Stai bloccato Cazzo Tra l'altro come si fa Superare questo Ah poi io non sono spine Sono alberi Me ne sono aperta adesso È vero Incredibile Pazzesco Pazzesco signore Guarda lì Tutti in fila proprio Se ne sono andati Com'è il balletto quello la in fila Cos'è che si canta Pire pepepe Pira paparap Non c'è mai valuto questo Non è vero Ma vabbè Facciamo che appena troviamo le pedale Esatto Eccola No la stanno fattugliando Cazzo No È la sopra di lui Invisibili di me Guarda la cipicchia È la sopra Cazzo Guarda 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 Oh Sb-60 Loro non saltano sulla pedana Io non sono abbastanza tondi per farlo Vi some' sveglavo qui ha bisogno finirli allora Guarda ma che finito ma che king benjamin ma che king ok allora volevo fare una versione da un'ora di quel questo ci mancherebbe altre che non ti venisse in mente di farlo guarda quello stupido stupido è IA guarda che IA è ok occhio che ne mancano quante di quelle piccole 3 no 100 è un mondo è completato sono fiero di noi è fatta è una giornata ah no quella e vado subito l'aereo e l'oceanic ho capito tipo la marca dell'aereo è l'oceanic si sono anche impegnati per creare dei brand new trademark ma occhio qua che sta camminando come fa la stealth questa mi impegnerò per fare lo so che c'è barbossa lì che che c'è sta roba ah perchè girano fra hai preso una vita lo slender come lo slender si oppure anche il il metal gear questo è octo dead è vero il metal gear c'è octo dead swag svega vicius occhio la musica a parte a parte che non hai niente di che è vero ormai io sono curiosissimo ma perchè io non ti rendiranno male ma perchè lo so anche che ce n'è un'altra che mi manca dio mio ah ecco sono diventato un completista del cazzo correct perchè non c'è niente che ti dice che l'hai finito quel mondo comunque davvero un pacman pacman in 3d è vero no ma esiste già comunque no fps avevi fatto si si no no quello in 3d esiste volevo farlo per la play 1 è stupendo è impossibile perchè ha fatto un po' male cioè sai come ha fatto è stupendo ma l'hai fatto male ma perchè come ha fatto i comandi della play 1 ma che cazzo fanno questi fanno perchè sono attirati dall'icolore cazzo uuuu ma perchè non c'era con me tutto nero bro guarda che roba sto facendo ma è un altro questo è un altro sei salvato c'è anche la moglie in forma di statue oddio il boss welcome to homeland ma basta sono questi ce n'è uno cazzo è quello più importante è il pallino il pallino è il pallino della creazione vengono tutti gli anni ma poi non ha un filo dici vabbè salto su questo vado in un punto basta ti prego basta a meno che non vuoi giocarci un po' te io potrei basta dobbiamo completare ci mancano ben po' non è vero mancano tantissime dove hai fatto eh? dai quanto siamo? faccio out siamo a 9 minuti comunque fatto è già fin troppo per questo gioco si ma ci abbiamo ancora quelle cose gigante no fai come fai bravo questo è lo swag di quello con gli occhiali no andami andami bene 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 sono fiore di noi guarda come che drift che drift il camaleonte il camaleonte il camaleonte non siamo in video non posso infatti non ho preso niente cos'è che ho visto da lì ma queste sono stelle sti quadrati colorati che non sono dei cerchi se vedi sono quadrati ma quanti sono grossi i pixel no no che cazzo fai ecco 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 si inizia da capo un po' è capo dai proviamo l'ultima vita è vero l'ultima delle ulti comunque noi in effetti c'è mancano tipo 33 33 32 31 telecronica incredibile no però è vero c'è mancano pochissimi ma siamo stati bravi ma abbiamo fatto nulla al caso che ducente niente dai sono contento basta un po' i giochi della vita esatto no no oh oh so sedermi wow incredibile dai 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 che si prendono quelle fatta fatta questa cosa guardali come no dai caccia questo con gli occhiali questo con gli occhiali io proprio odio pure ma guarda qua guarda qua ci sono tutte non ce l'avevamo perdere scordato proprio metà pianeta l'ho lasciato al caso prendi lo Yolo Swagger ok ok ora puoi prendere tutti il Yolo Swagger no cattivissimo guarda una vita è perso lo Slender ancora ma incredibile questa canzone pazzesco 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 occhio c'è mancano cinque non mandato due li vedo lì tre ce ne sono la hai chiesto occhio che ti hanno inculato è fatta non è vero ma si sta prendendo l'anno ma loro non ti seguono guarda ho fregato anche con l'arancione ehi ma è lì scuola 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 non vedete ce n'è una vabbè cambia modo cambia modo ma è meglio fatto ci mancano due direi di praticamente è fatta è fatta oddio l'ansia che sale eh no minchia abbiamo la possibilità di finirlo no scuri vabbè ma mi faccio fregare ragazzi lo metto nel let's play in essenza di gravità ah ma sono lì allora sono che ci mancano scusa pensavo ma no c'è il mondo cazzo cazzo fai fare a chi è capace giusto giusto no no guarda prendo lo Yolo swag ed è fatta ok ok è difficile in sto posto è vero PCM no prezzo ma cazzo altro che Outlast eh altro che Outlast appunto eh 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 questo era per Lost Planet giusto per dare un non epico a un posto di merda ah ah si dove no no perchè c'è una tomba invisibile chi ha e anche Spooky Planet questo oh due palline ecco lì è fatta se non mi prende no wow guarda no ah dai cazzo che tensione e che tensione che si respira caressa di essere orgoglioso guarda 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 oh le stai finita nella serie serie completate signori abbiamo vinto ballman prens 2010 2010 quindi dei code vikings dei vichinghi codice cazzo poi vi visitarli per quanta roba quindi ok raccomandato assoluto eh si avete il download in descrizione per vedere come va a finire cazzo no perchè di solito non li finisco ma ecco lì a x core boom dire dire ah non posso 3 let dire set no forse puoi puoi mettere la e quella strana non ce l'hai non ce l'ho io qua dentro ah io ce l'ho scritta no ce l'ho ce l'ho ce l'ho minchia ragazzi però c'è che la modità stereoscopica no stavi giocando alla qualità del leone basso cazzo ragazzi comunque ci vediamo nel prossimo indie qualunque cosa sarà lasciate un mi piace e un commento mettate a farlo sulla page se ti vedete qua su di tu beh allora ragazzi ciao ah minchia che epico tirala tira oooh ok e ora ce n'è di qua si può ma che grande ma che grande wow 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 calma 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 non ce l'hai a fare il salto non ce l'hai a fare il salto né cos'è cosa c'è qui cos'è ah è la realtà ah è la realtà